E va avanti il progetto inerente all'accoglienza dei migranti sul territorio comunale di Montaquila. La giunta dà infatti il via all'accoglienza. A Ripa Spaccata arriveranno ospiti presso il villaggio della centrale. La decisione è comunicata in Consiglio Comunale. L'accoglienza dei migranti diventa un tema abbastanza caldo sul territorio comunale di Montaquila. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale, riunitosi per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, ha ridiscusso il progetto riguardante l'adesione al Bando Sprar per l'accoglienza di un numero, ancora da quantificare, di migranti presso la diga di Ripa Spaccata. Qui sorge un villaggio gestito dal Consorzio di Bonifica della Piana di Vinafro, attrezzato da anni che in passato è stato utilizzato anche per eventi e meeting e per ospitare compagini sportive ed atleti nella pratica di diverse discipline sportive. L'iter che si era interrotto in attesa della decisione del Comune della provincia di Isernia è improvvisamente ripartito. Decisione adottata per ora dalla Giunta Comunale, che in questo modo potrà sfruttare un finanziamento proveniente dal Ministero dell'Interno di ben 700.000 euro. Notizia accolta non positivamente sia dalla minoranza consigliare del Paese che da molti cittadini, soprattutto i residenti di Roccaravindola.